Ok, siamo al lago Rosset, parco nazionale del Gran Paradiso, circa 2750 metri sul livello del mare, posto bellissimo, lago ancora in buona parte ghiacciato, cerco di raggiungere questo isolotto, dovuto circumnavigare passando da lì, rischiando di cadere nell'acqua più volte, al ritorno passerò dall'altro lato, credo, passando da lì, da quella cascata dovrebbe esserci un ballone. E adesso è necessario guadare, acqua a zero gradi, ma direi che si può fare. Direi che se non mi uccido l'acqua è gelida, però direi che si può fare. Porca miseria, mi sto congelando, qui ancora ghiacciato e anche profonda, pace estrema, si arriva qui, arrivo in cima all'isolotto, piedi completamente andati, però vabbè. Porca miseria, ed ecco qua, siamo qua in vetta all'isolotto del lago Rosset e direi che è un buon posto per fermarsi e fare picnic. Salute a tutti. Grazie. 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 Grazie.